La polizia principale che ci va da apripista ed è Enzo Faggiano a sorpresa a condurre la gara seguendo dal gruppo, sembra una gara ciclistica dove è già partita la fuga con Gilles Andone, Marco Fucce e Alessandro Vinciglio Ancora a studiare gli avversari, forza Antonio Gaeta, forza ragazzi, forza Peppe, forza Giuseppe, dai ragazzi Ed eccolo qua, dai Peppe, forza, dai Cicino, forza, dai Patrizio, via Pietro, vai Armando, Aleccio, vanni Dai, dai, ancora la gara che si sta sviluppando in gruppo, forza Gerardo, via Massimo, dai Forza Michela, primo minicino, tantissime le donne Dicevo, tantissime le donne in gara, forza Salvatore Silano al passaggio di questi primi 600 metri Maria Di Lorenzo al passaggio, ieri sarà il primo di Casetta Forza Cicino, arrivata l'ultimo momento, abbiamo ritardato per colpa sua Forza Giovanni Primo minicino, tra pochissimo rivedremo di nuovo gli atleti Grazie anche all'assistenza sanitaria, ai volontari del soccorso Smile di Solopra E al passaggio anche Michele del Franco Forza Michele Ringraziamo anche Rita Cagliatti, naturalmente la protezione civile che insieme alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia municipale Garandisce la sicurezza degli atleti sul percorso Ed ecco di qua, sono già qui, ma i giri, questi primi reggiri sono cortissimi, quindi è facile Di vedere subito gli atleti, quindi davvero quest'anno spettacolare la gara Ed è Paolo, in questo momento è sempre una gara all'americano Forza ragazzi Dai Raffaele, dai Raffaele Capone, dai forza ragazzi Diciamo che la gara ancora non inizia, siamo a 1200 metri Vai Vincenzo, vai Loredana, dai forza ragazzi Forza Peppe Dai Giovaldi, forza ragazzi Allora Peppe Dai Ciccino Pastore Pasquale Villarica Dai ragazze Pietro Polpaolo Cerrone Pietro Campedio Dai Armando, forza ragazzi Il Pino Italia Presente in massa con gli amici della ST Rapp or Lop Naturalmente Poti Jim Max Ferrara, il Pino Italia Gerardo Giorgione rappresentare la società di impenamento Massimo Delizia Per la società Bartolo Longo Forza Dai dai Tanti attretti giovanissimi Di Saura Valle dell'Irna in gara Forza Cilieco Ancora al passaggio Maria Fucci Nel Pino Italia Forza Michele Antonio Santella Dai Vano Vano Carpegniere con il Genta Argelio Forza Guantante Modistica Frattese Presente con il nostro amico Razio Forza ragazze Passaggio con Sonia Focci E tra pochissimo Rivedremo l'ultimo giroporto E poi ci toccherà aspettare Circa sette minuti Per l'altro passaggio degli atleti Ecco qua l'atleta dell'Atleti 88 Sotto Acerra Giovanni Altopelli Giovanni Alperdi Luigi Daniello Maria Di Lorenzo Insieme a Maria Anche Luigi Pesta Sotto 40 anni Sotto 40 anni Sotto 40 anni E' che c'è un minuto di atto La vista non sta a giaccare Quando mi d'appoggio Ho detto tre giri, due volte hanno passato Sette e mezzo Sette e mezzo Quando hanno fatto Due minuti, due, quattro Giorno c'era una stocca Due giri di atto Secondo me Ma secondo me si è un minuto di atto Quindi adesso è iniziato il giro più lungo Quello da due chilometri Quando siamo a otto minuti di gara Primo giro 600 me E' 6 E' 1.12 E' 1.12 E' 2, 4, 6, 7 e 2 A me lo vengono a fare 2 A me lo vengono a fare 2 Ma non credo Ci si dice loro quando è l'epoca E' a me lo vengono a fare Dio Mah È Tu uh Rimondola Tu S Jesse Come Miley S Di i miei paletti e al ceAC non hanno più male degli uomini la mano non è andro e mi ricorda che ci sono 12 anni fa, quando pensavo alla carne, abbiamo fatto un po' di ricorda, fatti che si impreme, un po' di ricorda, un'essenziale, un po' di ricorda, un destino, un po' di ricorda, pure a pace, un po' di ricorda, un po' di ricorda, un po' di ricorda, è brava, è così dopo, vengono sempre così, qua qua qua, vediamo, Non ci tiravano, prima se ne c'erano un po' di pregine, la prima coppa cazza, non è troppo questa crisi, perché la coppa c'era questa. A noi. Ma mo li fai passati là. Qua, ma qua è troppo stretto. Oh, devo chiedere l'orio, non toffi l'indiano, che ti stupi? Ma che dove fanno? Spera che loro stanno ancora insieme, non aggiungiamo. Oh, no, dopo. E' molto posto. All'anno cinque. Ma come fanno insieme a meccanmi in tiro, a che si fanno tre in giro, un, due e un po' di paura. A me lo posso chiedere qui. Non lo faccio. 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 Ancora passaggio degli atleti. Quando siamo a 12 minuti di gara, sicuramente. Eccolo qua, un gruppo di testa. formato da Giulio Viandone, Alessandro Rescigno, Marco Fucci, protagonista a Montevergine con fresco calco. Armine Luce, forza ragazzi, dai Raffaele, dai Vincenzo, forza Emilio, dai grandi ragazzi, dai forza Giovanni, Giovanni Giordano, Alessandro Di Maio, dietro alle care. Forza ragazzi, forza ragazzi. primo giro lungo o di gym a vendino, società organizzatrice con tantissimi atleti dai forza ragazzi passaggio anche Giovanni dei Poi via via ragazzi Angelo Di Pietro dai forza Antonio Caeta con il passaggio di Gianluca Frasca vai Antonio e ancora Montepietro di Traders la prima donna Loredana Lamberti con Fabrizio Romano e dentro qua il passaggio Giuseppe D'Amico con Peppe Senatore forza ragazzi primo giro lungo di due chilometri circa 200 gli atleti dai Giovanni dai dai Salvatore Amato da altri dai forza ragazzi ancora molto evidente Tim Branders forza Vincenzo Vincenzo Facciano è stato con la lepre del primo giro al passaggio Claudio Basile dai Claudio e ancora rappresentare il team di Acerva Buono Lotufo dai il Viva Italia al passaggio Rosanna Sacco con Paolo Cerrone Gingino Pastore dai Peppe ancora atletica 88 di Acerra con il passaggio di Giuseppe Cuglisi dai da Leandro Facciano forza Pasquale ancora round for life con il passaggio di Fernando di Fernando Bonazzi che è Giuseppe sempre Polangelo dai dai forza Pietro Pietro Carpenito quando passano la voce è bella prima Gerardo e Giorgione rappresentare il team Salina del budismo Benevento ancora round for life con il passaggio di Rodiviero Caeta Massimo di Rizia e ancora con il peccionale 796 Giuseppe Rocco dai Alessandra forza body gym Avellino con Felice Scozzese forza Ivano con Gendarr Genio caro Carpentieri Isauro Valle dell'Irno con Antonio Vicinanza vai Salvatore Salvatore Silano Sergio Perrotta dai Patrizia forza grande forza forza Dino il budismo Benevento Emilio D'Alessio forza comandante dai dai tra pochissimo ci trae il passaggio i bellissimi Andrevi Claudio Bozzacco forza Michela 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 vincio attenzione forza passaggio Silico Capone insieme a Silico Rosario Agnes ecco qua gli atleti che si limitano per gli atleti che devono ultimare Gigo passaggio Maria Maisto sempre verso l'atleti 88 Gigo Iannone con Alessandro Lecigno Frisco D'Arco e Daniele Russo 17 minuti e mezzo forza io Marco Marco Fucci con Michele Ciliperti in Saura Marco Fucci protagonista alla Scalata di Monteregge Carmine Luce è passata l'ultimo passaggio dopo arrivo quindi poi l'arrivo forza Cargine questo è la parola quindi quando impatti strada sarà l'arrivo della gara attenzione forza Cargine Carmelo Don Vincenzo nel freno in caraggio Raffaele Capone forza ragazzi Carmelo Carmelo non li dividere Monti che è giro di te Antonio Russo via allonga dai Emilio sì l'ultimo giro forza Giovanni Carmelo dai Alessandro allonga te la sta transendo perché è troppo tardi eh allonga dai forza dai Paolo con Peppe Fasano dai ragazzi ultimo giro per voi forza dai dai che finita forza dai Maria forza Giovanni Giovanni Alimberti dai Maria ancora forza Giovanni dai Cicino c'è ancora Pasquale Riccio ieri accadeggiato c'è il passaggio anche di San Padore Diana forza Luigi dai bravo dai ultimo giro forza ragazzi ultimo giro dai due chilometri forza al passaggio di Kelly del Franco forza dai dai ragazzi ultimo giro per voi Giovanni di 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 che mi sa di mi sa prima che mi sa forza Antonio Antonio Gaeta con l'atleta Giuseppe Pervedere del Monte Miletto Team Runners e ancora al passaggio Angelo Di Pietro Lions Valle Ubita forza Umberto dai Umberto Mignolo al passaggio dai Loredana forza ultimo giro Loredana dai Fabrizio forza grande Fabrizio a lei ragazzi ultimo giro anche per voi Peppe Senatore al passaggio con Antonio Caputo della Camaldorese e ancora il Rimpine Italia con Gennaro Di Michele a lei ragazzi un po' di Cimamellino dai ultimo giro per Gerardo Aurillo dai dai Monte Miletto Team Runners presento con Luigi De Vito Silma Casa Nuovo con l'atleta Antonio D'Ambrosio che minuto stamera? 17 minuti siamo a 21 minuti di gara Emilia Restaino oggi in veste di fotoreporter per fotistidop.it dai ragazzi forza ultimo giro per voi dai Piero Maione Claudio Basile dai Ezzo e ancora Avenillo Runners non cambia costabile dai Paolo Paolo Cerrone mentre dall'altra parte arrivano gli atleti dai dai forza buono fai dai Ciccino Luigi Pastore forza ragazzi Rosanna Sarno dai qui si dividono gli atleti per l'ultimo giro mentre dall'altra parte stanno arrivando gli atleti forza ragazzi Pasquale Follo il fine Italia dai dai ragazzi dai Finanza Sport Campania con Antonio Deserio dai dai Peppe forza ragazzi dai Pasquale Pasquale Villarica ed è il vincitore Giulio Giannone dai Pasquale dall'altra parte Giulio Giannone che chiude il 22.15 Fluri campione italiano in forze per diversi anni al gruppo sportivo esercito ora corre con l'International Security Service e al secondo posto davvero una grandissima gara per lui dopo tantissimo riposo rientra alla grande in seconda posizione Daniele Russo terzo posto per Frisco Tarco quarto assoluto Alessandro Rescigno che sta conservando le energie per la sua gara la stampetta della 3x1000 forza ragazzi ed eccolo qua lui che ultimamente davvero sta andando fortissimo Michele Giliperti Saura Balle dell'Irno forza ragazzi a lei ultimo giro per voi dai Marco Marco Fucci dai vado Imano Carpentieri con Cet Arceio ecco qua Marco Fucci un pochino stanco da Montevergine forza 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 ragazzi forza ragazzi ecco qua gli atleti dobbiamo ringraziare Carmelo Alvino dai Salvatore Salvatore Sinano ultimo giro vai ed ecco qua gli atleti che sono all'attivo giovanissimo Carmelo Luce e a rientro alle gare dopo un lungo stop è stato ieri a San Nicola la strada Michele Carbone grande Michele attenzione a questi sprint finali che fa il Cicuentes Vincenzo Delprete Anilio Longobardo Angelo Raffaele Capone dai Vincenzo dai dai che è finita l'atleta Massimo Baldi della Camaldonese forza Alessandro Di Maio che aveva pochi secondi da Antonio Russo atletica Regni Salerno ultimo giro per l'atleta Montellese Giovanni Giordano Peppe Alphano invece arriva Peppe Peppe arriva stop 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 maronna mia è arrivato Emilio Luce e Peppe Alphano sono arrivati attenzione sì Emilio Luce questo è pure arriva dai ragazzi forza Michela Michela Miccio dai dai bravissimo Isaura Valle del Mirno con l'arrivo di Guglielmo di Filippo forza ragazzi attenzione 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 non stavola negli ampetti Maria Michela Fucci mentre chiude la sua gara Gianmario Masucci con Paolo attenzione dai 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 ragazzi che si arriva forza arriva uno sprint Gianluca Frasca dai ragazzi che è finita a traguardo anche Giuseppe Pisani e ancora dell'Ermes Antoniana Valdeas Walter Botta Giovanni Nellipovi forza Giovanni arriva anche Carmine Settembre del running Saviano attenzione questi sono arrivi forza complimenti ragazzi per vedere Montepiletto Team Runners e ancora Montepiletto con Nicola Negrone Antonio Gaeta forza Antonio Gaeta con Giovanni Moretto Montepiletto Team Runners dai Peppe Peppe D'Amico della Spodicim di Avellino chiude la sua gara Rocco Penna quando siamo a 26 minuti di gara 26.50 tantissime gli sprint la gara è in volta quindi le fregne hanno modo di sprintare anche perché quest'anno le salite sono state abolite quindi percorso molto veloce Giuseppe Somma e ancora Isaura Valle del Pirno con Domenico Tascoli la prima delle donne Loretana Lamberti con Fabrizio insieme a Giuseppe Senatore e ancora Fodicim Avellino con Gerardo Aurillo il Pile Italia con l'arrivo di Gennaro Di Michele e ancora sprint dai ragazzi che finita complimenti Andiamo lo sprint di Salvatore Amato e ancora Botte Pietro di Bramers con Luigi De Vito forza forza ragazzi Giuseppe anche Alessio Vito con l'isportiva Lorenzo Motorello Silva Casaluovo bolla con l'arrivo di Alconio D'Ambrosio chiude la sua gara anche Antonello Russo Wisp Avellino dai ultimo giro per voi forza Giovanni dai e ancora il Montenegro di Bramers Piero Maione dai Paolo Paolo Cerrone ed eccolo qua rappresentare l'atletica 88 di Acerra Buono Lodufo forza Vincenzo Maria ultimo giro Avellino Runners attenzione forza forza ragazzi Rosanna Sanno Pasquale Follo forza ragazzi che finita dai a Regi Salerno con Massimo Romeo attenzione allo sprint arrivo di Pasquale Penna dai seconda minata con l'atleta della finanza sport campagna Antonio c'è che serio è Giuseppe ecco qua di Percas 88 di Acerra atletico 88 Acerra arrivo di Giuseppe Buglisi forza ragazzi ancora il guardo Massimo Massimo di inizia con divano carpentieri in cento argelio e più che anche Francesco percolese dai dai Vincenzo Marciano via e ancora un po' di gym di Avellino Corso Guacci Aniello Gini Berti Pietro Carpenito che arriva insieme ad Armando Fiorentino Monteglietto Team Runners Giuseppe Colangelo all'arrivo con Antonio Ciampa Max Ferraro che aspetta il 9 luglio insieme a Max giunga la sua gara Alessandra Casparini Salvatore Silano i giovanissimi atleti dell'isauro Valle dell'Irno forza ragazzi Domenico Fiorillo che è chiuso Felice Scozzese ancora Isaura con l'arrivo di Antonio Vicinanza Orazio Costanzo della Polizia Partese il presidente dell'Atletica Lulana Antonio Santella 17 dicembre saremo l'appuntamento di Nola Gabriele Esposito siamo a 32 minuti di gara dai dai ragazzi Gennaro Manna Gennaro chiude anche Francesco Marino dai dai forza Michele De Franco ed eccolo qua la fratta maggiore Carmine del Prete Polisportiva Camaldolese con Domenico Paldi dai Domenico Claudio Bozzacco dai Claudio e ancora il Rabbino Italia con Rosario Agnes Avellino Runners con Ciro Esposito e Ciro Pellettia e ancora del Polissimo Benavento Emilio D'Alessio brava Patrizia Patrizia Falconelli brava Patrizia è stata anche a Montevergine la scala di Montevergine sabato ciao Antonio ciao ragazzi Atletica Lulana c'è e ancora al traguardo di Solofra Nicola Mancini forza Michela Michela Niccio con Antonio Frucillo e chiude anche Gioconta Diana di Saura Valle dell'Irno attenzione all'arrivo dell'atleta della 42K Bernabin Sesta Bernabino Sessa dai ragazzi che è finita forza Michela Michela Sposino dai attenzione forza ragazzi e arriva anche la decima assoluta che è Maria Michela Fucci dell'Irpina Italia grandissimo atleta del Montevergine Team Runners Team Runners Ciria con Capone ringraziamo anche Pino Riccio per le foto dell'evento Carmine Buonovino dell'Avellino Runners dai Carmine che è finita bravo un po' di Jim di Giavellino Nicola De Filippo Luigi Amagliano con 34 e 40 Peppa ancora un'arriva eccolo qua allo sprint Maria Grazia Maisto con buono l'uomo dai di qua di qua ragazzi lo stesso lo stesso vai 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 bravo forza gli atleti dell'acqua di Jim Dagnarit Quarto giornata ma ti saluto giornata ora film dell'acqua di Jim Romeroso è un attimo di Giuseppe Coppola 7 7 8 7 7 6 6 6 6 6 7 8 7 7 8 8 8 8 8 9 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 19 18 19 20 Forza ragazze, dai che è finita Natascia Poglietta con Sonia Focci Daniele Russo Bravo Giovanni, Giovanni Alipetti Daniele Russo Giuseppe Esabolito con Maria Di Lorenzo Grazie 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 Grazie.